Cari amici, vi parlo dal passato, nel senso che il mio qui è un presente, il 9 febbraio ore 16.30, ma so che mentre vi parlo voi siete nel vostro 14 febbraio, nel vostro sit-in distanziati e ribelli, come ama dire il mio amico Alessandro Garzella. E quindi questo è un abbraccio, un pensiero che vi faccio da cittadino a cittadino, da teatrante a teatranti, per dire quanto è importante che i teatri restino aperti, sempre aperti, anche quando siamo ribelli ligi alle leggi, quindi magari non li usiamo, non ci facciamo entrare in pubblico, ma è fondamentale che i teatri restino aperti, come le nostre menti. E quindi è un grande abbraccio che vi mando, immaginandovi in questa distanza temporale, in un sit-in gandiano, una marcia non per il sale, ma per il sale della nostra umanità, il sale che non deve mancare mai perché deve davvero dare linfa, energia alla nostra vita. Ancora da Ravenna a Pisa un grande grande abbraccio.